C'è un video che con Domenico Restuccia abbiamo visto sul tuo Instagram che ci ha colpito non poco e Domenico ci piacerebbe riproporlo al pubblico Eh sì, perché abbiamo scoperto una cosa di te, una tua peculiarità Oh mamma mia, che avete scoperto sul mio Instagram? No, guardia, io non anticipo nulla, guardiamoli insieme che è anche molto divertente No, guardia, guardia No, vabbè, ma aspetta, ma dobbiamo spiegare Il Napoli aveva vinto lo scudetto Io ero a Teulada e ho deciso di fare così un piccolo video per omaggiare Ma come avete visto e avrete capito, sono veramente una cosa, una frana tremenda Ma da frana a frana... Poi vedi, ero vestita con i tacchi perché stavo per andare in studio Però credibile Sì, molto Molto credibile Domenico Sì, da frana a frana non ti sto invitando a fare due palleggi perché insomma non è cosa Però vorrei invitarti a fare una cosa Vengo verso di te Questo è un pallone come quello che hai calciato nel video E a volte dare un calcio al pallone è qualcosa di liberatorio Ah sì Vero? Sì Ci si può sfogare, si può mandare via anche un po' di rabbia Allora questo pallone non è un semplice pallone Te lo do in mano Perché è un pallone che può, diciamo, prendere le sembianze di qualcosa che in questo momento non ti piace Uno stato d'animo, un qualcosa che magari dentro di te senti e lo stai combattendo Allora io ti do questo pennarello per dare un nome a questa cosa E poi ti invito a dare un bel calcio A questa cosa che vuole calciare Un misto di sentimenti ai quali è difficile dare un nome Diciamo Rabbia forse Forse è proprio la rabbia Per alcune cose che non sono andate come erano nei miei piani Calcio questo pallone Calcio la rabbia E dove lo calcio? Vieni, vieni Ho paura di fare male a qualcuno Vieni Robi, vieni qua Dimmi dove mi devo mettere Soponto la band, no, eh Pigi, sicuro che vuoi stare là? Sicuro? Perché sei in traiettoria Io vorrei Prendi un po' di rincorso Prendi un po' di rincorso Cerco di Ragazzi L'abbiamo scacciata Sotto forma di una metafora Sotto forma di un po' di rincorso